Domenica mattina, l'idea di andare ad Ischia con le vespe. Buongiorno a tutti, con questa banda di pazzi. Dove stiamo andando? Noi saremmo, siamo riusciti ad andare con la vespa in mezzo al mare. Buongiorno a tutti, con questa banda di pazzi. Buongiorno a tutti, con questa banda di pazzi. La neve qua, com'è la situazione? Meglio la neve però, meglio la neve. No, 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 meglio il sole, meglio il sole. Come vedi andiamo tutti quanti racconto. Come vedi e la situazione? Come vedi e la situazione? Come vedi e la situazione? Salita finalmente Serrara. Tant'angelo, tutti angeli. Signori, un applauso alla pausa pranzo. Quando si fa l'ora di pranzo? Andiamo a fare. Andiamo a fare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.